vediamo la bilancia, vediamo come sedurre la bilancia qua purtroppo se siete cessi o cesse non riuscirete a sedurre la bilancia perché la bilancia va alla ricerca soprattutto di estetica quindi se siete bruttarelli, bruttocchie o bruttocchi non riuscirete a sedurre la bilancia questo sempre in linea di principio la bilancia va alla ricerca dell'estetica e piglia delle cantonate su questo la bilancia prende delle grosse cantonate perché magari si innamora del bello e dannato che poi la rivolta come un calzino e la sputa fuori e se ne sbatti i coglioni la bilancia spesso accade in queste cose comunque tra i segni con cui può andare bene c'è un'intesa perfetta con i gemelli ad esempio se i gemelli hanno una buona caratteristica fisica quindi... e poi anche con il sagittario col quale condivide una curiosità per la sette di conoscenza ma anche con il leone e con... perché con il leone è egocentrico sempre che sia una persona diciamo di qualità ovviamente può esserci una buona intesa anche col capricorno perché comunque se c'è una... come possiamo dire se c'è una... un'intesa da un punto di vista anche estetico potrebbe anche funzionare potrebbe essere una relazione che funziona e... sicuramente la bilancia ha poco successo con... con il toro ad esempio poco successo con lo scorpione e comunque dovete prendervi cura di voi stessi se volete sedurrarsi nella bilancia dovete cercare di prendervi cura di voi stessi apparire come persone belle anche esteticamente e non trascurati, non trascurate perché se siete trascurate o trascurate non riuscite a coinvolgere non riuscite a sedurre assolutamente nessuno e poi... e poi abbiamo altri segni che sono ad esempio lo scorpione lo scorpione non è un segno semplice è un segno che è un po' manipolatore tende un po' a manipolare può andare bene con i pesci e con la vergine anche con il cancro attenzione che il capricorno richiede sessualità quindi se avete a che fare con una persona del capricorno dovete avere dello scorpione scusate, se dovete avere una persona dello scorpione dovete, diciamo, mantenere un livello di sessualità alto perché se no poi se ne vanno verso altri lidi è un po' manipolatore come segno può andare bene con i pesci, con la vergine, con il cancro per certi versi potrebbe anche andare bene col capricorno anche se con un po' di... con il leone non va va anche poco con la bilancia c'è poco da fare, insomma e poi... beh, che dire ancora dopo lo scorpione abbiamo il sagittario il sagittario è un segno invece un po' libertino tende ad essere un po' libertino come segno è un segno che fedifroga il concubino di solito fa le corna perché è un segno, uno spirito libero va alla ricerca della libertà naturalmente si può agganciare con la riete si può agganciare con il leone anche se ci può essere molta gelosia ma si può agganciare con la bilancia e anche con l'acquario quindi il sagittario ha tante possibilità è ovvio che tendenzialmente è un segno che fa le corna quindi se non vi pesano tanto le corna può andare bene per voi, insomma e poi abbiamo il capricorno il capricorno, segno di terra ama la stabilità che ricerca comunque in qualunque relazione funziona bene con il toro con la vergine con il capricorno stesso perché comunque va alla ricerca del successo è un segno che va alla ricerca anche di persone che abbiano successo e quindi questi sono i segni principali può avere anche una buona possibilità con i pesci e anche con la bilancia non con tutti ovviamente teniamo presente che lo zodiaco, come dicevo l'astrologia è statistica qui non è che dovete prendere per oro colato le caratteristiche però cercate di capire quali sono le possibilità che vi dà e poi quindi sfruttatele in questo modo questo è molto importante è fondamentale e poi abbiamo l'acquario l'acquario è un segno molto creativo è il segno più creativo del zodiaco un segno libero diciamo l'affinità è con i segni leggeri perché l'acquario è un po' leggero i segni dinamici va bene con i giamelli va bene con la bilancia però è un segno che tende alla libertà anche se va a cercare qualcuno col quale creare un legame forte se volete sedurare l'acquario fatevi vedere spiriti liberi fatevi vedere persone avventurosi un po' come col sagittario diciamo non fatevi vedere pantofolai perché il sagittario scappa scusate l'acquario scappa tende a fuggire va alla ricerca proprio di persone un po' più leggere meno complicate da un certo punto di vista e poi abbiamo per finire i pesci i pesci sono il segno più idealista più emotivo più sognatore dello zodiaco e quindi questo lo dobbiamo tenere presente i pesci hanno bisogno di qualcuno che sappia domarli che sappia tenerli con i piedi per terra e quindi si agganciano molto al toro si agganciano molto al capricorno perché sono segni che hanno un senso pratico un senso razionale quindi questo può dare molte possibilità da questo punto di vista anche il cancro può andare molto bene con i pesci perché il cancro è comunque un segno gentile normalmente è un segno mansueto anche i pesci sono mansueti come segno per cui possono funzionare talvolta i pesci finiscono nelle grinf degli scorpioni e allora sono cazzi amari quando finiscono nelle grinf degli scorpioni sono veramente cazzi amari perché è una relazione che può funzionare ma lo scorpione diciamo lo lo distrugge fondamentalmente quindi questo dobbiamo tenere presente bene quindi questo è un po' quello che riguarda tutti i segni e quindi e quindi vediamo 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 allora vediamo